Oh, ma che cos'è? Puoi perdere la guerra nel tuo giardino? Fratello, forse è giunta l'ora dell'arma segreta! Terra Firminator! Il dominatore d'erba! Il più potente! Il più spietato 500 cavalli che il mondo abbia mai visto! Terra Firminator! Non è un semplice tolosa erba! Potenza! 75% di potenza in più! Potenza! Scombera! Scombera! Scava! Scava! Taglia! Taglia! Il tuo prato avrà il terrore di crescere! Terra Firminator! La tua arma di distruzione! Terra Firminator non impedirà l'erba di crescere sconsigliato per uso domestico!